Circa 3.000 anni fa, le dolci colline che circondavano un fiume calmo e salubre della penisola italica furono lentamente colonizzate da antiche popolazioni che trovarono pace alle loro migrazioni, stabilendosi in una comunità semplice e organizzata, destinata a diventare la base della cultura e della storia della moderna civiltà. Di quest'epoca una data è rimasta scolpita nei ricordi della storia, il 21 aprile 753 a.C., il giorno in cui nacque una città, il cui destino sarebbe stato immenso, Roma. Le immagini che stiamo ammirando sono state riprese sul plastico della Roma imperiale conservato al Museo della Civiltà Romana dell'Eur, un quartiere che più di ogni altro richiama alla mente la grandiosità e la straordinaria urbanistica della Roma antica. Se torniamo ad ammirare il nostro plastico, che si riferisce all'aspetto della città intorno al II secolo d.C., non vi troveremo gli attuali grattacieli, ma l'urbanistica e la bellezza dell'insieme sono davvero abbaglianti. A quell'epoca Roma era al massimo del suo splendore, contava quasi un milione d'abitanti e possedeva una tecnologia e una cultura superiori che, unite a un miracoloso sistema economico e sociale, le avevano permesso di dominare tutto il mondo conosciuto. Per attuare questo miracolo la città dovette essere costruita secondo criteri modernissimi e di grande efficienza. Ecco allora straordinari acquedotti che riuscivano ad alimentarla con una quantità d'acqua proporzionalmente molto superiore a quella attuale. E poi un perfetto sistema di fognature, come la celebre del secolo H. massima, che garantiva pulizia e igiene ambientale. E infine il mezzo con cui cultura e civiltà poterono essere scambiate con popoli lontani, le strade. Si trattava di veri e propri miracoli d'ingegneria legati per di più ad una illuminata politica che vide nelle comunicazioni e nei trasporti il mezzo indispensabile per esportare conoscenze, cultura, leggi. Grazie ad esse la città ebbe in cambio a sua volta le esperienze e la saggezza dei popoli conquistati, che non vennero mai definitivamente annientati, ma integrati nel sistema romano con una saggia e tollerante politica di rispetto delle singole individualità culturali e religiose. Ciò permise la loro integrazione senza operare fratture all'interno del sistema politico, permettendo di creare un impero unico, anche se formato da decine di realtà etniche diverse una dall'altra. Noi vogliamo esplorare un angolo importante di questo antico mondo, percorrendo 5 strade che partivano dalla capitale e che, ciascuna con una sua storia e un suo fine, contribuirono a creare e rafforzare il mito della più grande civiltà di tutti i tempi. Il nostro viaggio inizia dalla via Ardeatina, quella che si tuffa nel cuore più antico della storia di Roma. Una storia intrecciata strettamente alla leggenda. Fu compito di un grande poeta romano, Publio Virgilio Marone, costruire il mito divino della fondazione della città con un poema, Leneide, che di là dal grande valore letterario, descrive con incredibile esattezza geografica e storica i luoghi e le gesta che avrebbero portato alla nascita della grande città. E come il ritrovamento di Troia ha trasformato Omero da cantore mitico ad artista reale, così le clamorose scoperte archeologiche di Lavinium, Ardea, Castel di Decima, Santa Palomba, hanno reso reali e veritieri i racconti che hanno portato alle origini della stirpe latina. Quella stirpe che secondo la tradizione era nata in seguito a un antico patto divino legato alla fondazione della città madre dei latini, Lavinium. La gente di Enea fuggendo da Troia sbarcò qui nei pressi di Ardea e la trovò città fiorente, capitale dei Rutuli, che mai si sarebbe piegata a Roma. Enea uccise turno il re dei Rutuli e fondò intorno al XII secolo a.C. Lavinium, così chiamata in onore di Lavinia, la giovane principessa italica che fu la sua seconda moglie. Quest'atto segnò l'unione dei popoli indigeni del litorale laziale con i Troiani e queste furono le sacre origini del popolo romano e della nazione latina, narrate da Virgilio nel suo poema. Se seguiamo la nostra storia, dobbiamo ricordare che un figlio di Enea avrebbe fondato Alba Longa, sui colli albani, mentre Romolo, altro discendente di Enea, 300 anni dopo avrebbe fondato Roma. Quella Roma che distruggerà Alba Longa ma risparmierà lavinium, venerandola come terra santa del Lazio antico. Oggi Ardea è una ridente cittadina del litorale laziale ed è forse l'unico luogo del Lazio dove si può ancora vedere la struttura di una città latina con le sue possenti mura. Il borgo comunque offre altre occasioni di visita, come alcune interessanti chiese e un bellissimo borgo medievale. Nei resti dell'antica lavinium, l'attuale pratica di mare nella zona del comune di Pomezia, si trovava il più famoso santuario del Lazio Primitivo, Alburnea, l'attuale zona denominata la solforata. Sono innumerevoli i resti interessanti di quest'area archeologica, una necropoli, tratti delle mura, un complesso termale. E infine la stessa tomba di Enea detta Eron. Spostiamoci su un altro importante percorso, la via Prenestina, quella che ci conduce al ricordo di altri personaggi mitici, questa volta meno leggendari. La storia vuole che, da giovinetti, Romolo e Remo, figli di un facoltoso pastore di Alba Lunga, giungessero proprio nella zona dell'attuale Gabi per apprendere l'uso delle armi e delle lettere greche, luogo dal quale sarebbero un giorno partiti per fondare una grande città. La strada ha origine da una bellissima porta, Porta Maggiore, un nodo storico della Roma antica e raggiunge, dopo pochi chilometri, un borgo dal suggestivo sapore medievale, Gallicano nel Lazio. Prima dell'anno 1000 il paese fu feudo dei monaci benedettini di Santa Scolastica. Dopo il 1115 passò per decreto papale al monastero di Subbiaco e dopo il 200 ai Colonna che lo tennero per oltre quattro secoli. Oggi è una cittadina attiva e salubre, ricca d'angoli colorati e suggestivi. Proseguendo il nostro percorso giungiamo a Zagarolo, le cui origini sono strettamente collegate a Palestrina, di cui la cittadina era uno degli Oppida, cioè le città fortificate. Distrutta più volte nei secoli, divenne ducato nel 1500 sotto Pompeo Colonna, il cui figlio Marzio trasformerà il borgo medievale in una città rinascimentale. Oggi la cittadina è ampia e dinamica, ricca di suggestivi scorci antichi e di testimonianze artistiche. Fra i suoi figli illustri è d'obbligo ricordare il grande astronomo Giuseppe Calandrelli e il artistista Goffredo Petrassi. Importante è Palazzo Rospigliosi, sorto da una città rinascimentale. sul luogo dove esisteva un castello già nell'anno 1000. Durante la proprietà dei Ludovisi, il palazzo fu arricchito con dipinti famosi di Domenichino e Guidoreni. Gli affreschi che oggi possiamo ammirare in numerose stanze del palazzo risalgono al tardo 500 e sono opera di manieristi quali gli Zuccari e Giovanni Bianchi, detto il Bertone. definito un balcone sulla provincia di Roma, Castel San Pietro ci accoglie con uno straordinario panorama sulla campagna laziale. Le origini del borgo sono remotissime. Si parla addirittura del IV secolo a.C. Chiamato, secondo la leggenda Castrum Sancti Petri da Costantino il Grande, il paese, anche grazie alla sua straordinaria fortuna paesaggistica, fu circondato nel Medioevo da un'aura mistica e la tradizione vi ricorda la presenza dello stesso San Benedetto. Anche se la sua storia non ricorda sempre momenti sereni, basti ricordare nel 1200 la cerrima lotta fra i Colonna e Papa Bonifacio VIII che terminò solo con la morte del Pontefice. A due passi entriamo a Palestrina, altro luogo di grande fascino e fama, dovuta soprattutto a uno dei più importanti santuari dell'antichità, quello della fortuna primigenia. Ma tutta la cittadina offre infiniti spunti per una visita suggestiva e culturale d'altissimo livello. Già la splendida piazza Regina Margherita dà una bell'idea della sua antica e ordinata struttura urbanistica. Domina la piazza l'ampia mole della cattedrale che fu innalzata sull'area di un edificio romano in tufo di cui rimangono resti sul fronte, sul fianco e nella cripta. Al centro della piazza spicca una statua dedicata al figlio più illustre della città, Giovanni Pierluigi, detto appunto da Palestrina, il grande polifonista che nacque in questa casa, conservata come un museo, nel 1525. Ma il monumento più celebre è sicuramente l'immenso e spettacolare tempio della fortuna primigenia, uno dei più importanti santuari di tutta l'antichità. Il tempio è databile intorno al II secolo a.C. anche se l'origine del culto è molto più antica. In ogni caso si tratta di un'opera ad eccezionale livello tecnico e artistico, la cui struttura può essere considerata uno dei più grandiosi esempi d'architettura ellenistica in Italia. Completamente scavato nella montagna, il santuario si affaccia su uno strepitoso panorama sulle valli del Sacco e del Tevere. Sulla sua sommità sorge il severo palazzo Barberini, edificato nel 1640, al cui interno è allestito lo splendido Museo Nazionale Archeologico di Palestrina. Da poco restaurato in maniera perfetta, il museo conserva pezzi di eccezionale valore, ricavati dai resti del santuario e da ritrovamenti nel territorio prenestino, nonché opere di varia provenienza, fra cui spicca il grandioso mosaico nilotico, uno splendido quadro visivo risalente all'80 a.C. e rappresentante l'inondazione del Nilo. Si tratta di una perfetta carta geografica dell'Egitto antico, che ci mostra con un realismo stupefacente un'enorme quantità di personaggi e animali, tutti raffigurati in innumerevoli attività. Un'opera di eccezionale valore artistico, che rappresenta una vera e propria fotografia dell'Egitto del passato. Altro pezzo celebre del museo è la Triade Capitolina, una splendida scultura marmorea la cui avventurosa storia stava per concludersi con un trafugamento all'estero e che solo un provvidenziale recupero da parte delle autorità italiane ha permesso di riportare nella sua sede più giusta. La Triade è l'unico esemplare al mondo di sculture antica che mostri riunite le tre divinità tutelari di Roma, Giove, Giunone e Minerva, che erano venerate sul tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio. Nelle altre sale il museo raccoglie una quantità notevolissima d'opere di vario genere, sculture d'età imperiale e reperti epigrafici che ci informano sulle attività economiche, sull'assetto sociale e politico e sulla religiosità dell'antica preneste. In un'altra ala sono raccolti i reperti provenienti dalla necropoli di Preneste, urne funerarie e sarcofagi, oggetti del VII-VI secolo a.C., fra cui ceramiche, bronzi, specchi decorati che dimostrano la prosperità della città in quei tempi. E infine un insieme di cippi a forma di pigna o di busto femminile esposti in un allestimento che evoca l'aspetto della necropoli. Spostiamoci ora lungo la via Casilina Labicana che deve il suo nome al fatto di collegare Roma con l'antica città dei Labici. Come altre vie consolari, la strada era di grande importanza per i commerci e gli scambi di Roma con la periferia. La via partiva sempre da Porta Maggiore, che rappresentava uno dei principali nodi di scambio della città. Dirigendosi verso sud-ovest, raggiungeva il borgo di Colonna, che nel Medioevo fu un importante centro fortificato. Qui ebbe inizio la dinastia della celebre famiglia Colonna, cui si deve il bel palazzo omonimo. Altri monumenti rilevanti sono la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea del 1771 e la chiesa di San Rocco, ricca di pregiovoli e freschi. Non molto distante entriamo a San Cesareo, uno dei comuni più giovani d'Italia, situato in una bella posizione sulle pendici dei Colli Albani. La cittadina sorge in una zona ricca di presenze archeologiche, testimonianza dell'importanza dell'antica via Labicana. In località fontanile della Pidocchiosa possiamo ammirare un tratto della strada romana accostato ai resti di una fontana ninfeo del IV secolo, unico esempio esistente di fontana di sosta e ristoro dell'antica via Labicana. Poco fuori la cittadina scopriamo un altro antico ninfeo circolare, a pianta centrale e due piani, sembra risalente al IV secolo d.C. Ecco poi Villa Rospigliosi, costruita alla fine del Seicento sul luogo dell'antico palazzo della Villa Imperiale e di un successivo castello medievale. Proseguiamo nel nostro viaggio per giungere alla Bico, altro borgo d'origine antichissima, dove si può visitare la chiesa di Sant'Andrea Apostolo, risalente al 1600, e il complesso degli Arnari, una serie di vasche scavate interamente nel tufo e un tempo utilizzate probabilmente per la pigiatura. Eccoci ora a Valmontone. Anche se fortemente danneggiato dai bombardamenti alleati dell'ultima guerra, il centro storico conserva vari monumenti di grande rilievo, fra cui spicca il palazzo Doria Panfili. Costruito fra il 1652 e il 1662 circa, conserva all'interno un notevole ciclo di affreschi, molto rappresentativi della pittura romana del Seicento, cui lavorarono artisti come Preti, Duguet, Cortese e altri. Proseguendo il percorso lungo la Casilina, scopriamo arroccato su una collina il paese di Artena. Feudo della famiglia borghese presenta bellissimi scorci, a cominciare dal monumentale arco d'accesso, la cui struttura è rivestita da un bugnato liscio. Molto suggestiva è poi la chiesa di Santa Croce, collocata nel punto più alto del paese, in un angolo di straordinario panorama sul territorio laziale. La chiesa, che presenta una facciata a doppio ordine scandito dalle sene, fu edificata su progetto dell'architetto Terzaghi nel 1600 e si scopre dopo una suggestiva passeggiata fra stradine miracolosamente intatte e come scolpite nel tempo. La nostra visita alla Casilina si conclude a Colleferro, altro paese giovane ma situato in un'area che registra notevoli presenze di antiche vestigia. La cittadina è oggi un centro dinamico e attivissimo di vita sociale e industriale e non ha dimenticato il suo recente passato. Un passato duro che si rifà ai tempi cupi dell'ultima guerra, quando i suoi abitanti furono costretti per sopravvivere a trovarsi un riparo alle devastazioni del conflitto. Furono gli operai delle manifatture industriali ad ampliare nel 1939 una serie di gallerie già scavate come cave per impiantarvi un'incredibile città sotterranea che per oltre un anno fu casa e riparo per oltre 1500 persone. Rivisitare oggi questo luogo esteso per chilometri provoca una profonda emozione. Brandelli di vita riappaiono come dal nulla, ricordandoci una disperazione mitigata solo dalla speranza di una vita migliore. Le brande, l'infermeria, la piccola cappella, persino un angolo allestito a osteria per alleviare le lunghe ore di terrore. Qui si celebrarono matrimoni, nacquero bambini e malgrado tutto si sopravvisse anche quando l'angoscia sembrava voler annientare la voglia di vivere. Torniamo a Roma per riprendere il nostro viaggio lungo un'altra antica arteria. Questa volta si tratta di una delle più brevi vie romane, ma non per questo meno importanti e affascinanti, la via portuense. Punto di partenza è la più celebre delle porte romane, porta portese, che appartiene alle mura di cinta di Aureliano, 280 d.C., e il cui aspetto attuale risale ai lavori compiuti da Papa Urbano VIII per circondare di mura il rione Trastevere nella prima metà del Seicento. Diverse testimonianze dei monumenti situati sul suo percorso si possono ammirare già nella stessa Roma, come l'arsenale pontificio, costruito sotto Clemente XI nei primi del 1700. Si tratta di un edificio con tetto a spioventi e caratterizzato da sette coppie d'archi a sesto acuto che un tempo consentivano il passaggio delle alberature navali. L'esigenza di un tale edificio risaliva al Medioevo, quando ancora il Tevere era utilizzato come via navale. Furono infatti già Callisto III nel 1456 e Sisto IV nel 1475 a far costruire qui parte della flotta destinata alle guerre contro i turchi e in Oriente. Nei pressi visitiamo la chiesa di Santa Passera, un piccolo gioiello dell'età medievale risalente al IX secolo, costruita sui resti di un antico mausoleo romano del II secolo. All'interno di un moderno drugstore scopriamo infine la necropoli portuense, un insieme di cinque ambienti sepolcrali scavati in parte nel tufo e databili dal II al III secolo d.C. Nell'ambiente più ricco rimangono tracce di decorazioni pittoriche nella volta e nelle nicchie, mentre un prezioso mosaico decora il pavimento. Innumerevoli altre decorazioni e resti di splendide suppellettili completano l'arredo dell'ambiente, affascinante testimonianza dell'epoca. Ma l'ambiente più importante della pur breve strada era Fiumicino. Lo sfogo sul mare della Roma di oggi e di allora. Qui, dopo importanti lavori di restauro, sono venuti alla luce gli antichi porti imperiali di Claudio e Traiano, eccezionali opere di ingegneria che dimostrano tutta la magnificenza della cultura e dell'immensa tecnologia romana. Il porto di Traiano, di cui la visione di questo plastico può dare una pallida idea della grandezza e della straordinaria organizzazione architettonica, era un bacino di fronte al quale i nostri più efficienti porti possono solo impallidire. Possedeva un'immensa darsena, moli potentissimi, infrastrutture perfette per l'accoglienza delle navi e di quanti dovevano operare intorno al mondo marino. Grazie a tutti. Il grande bacino centrale, perfettamente protetto da qualsiasi vento, aveva forma esagonale e poteva ospitare centinaia di navi e imbarcazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nei pressi dell'area archeologica del porto un bellissimo museo delle navi, allestito tra il 1965 e il 1968, dopo il ritrovamento nei pressi di alcune navi in legno, venute alla luce durante i lavori di costruzione dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Oggi il museo conserva cinque imbarcazioni, comprese numerose suppellettili, che rappresentano una preziosa e affascinante testimonianza dell'arte romana nel campo dell'ingegneria navale. Concludiamo il nostro affascinante viaggio su un altro dei percorsi obbligati per comprendere la mappa dell'espansione culturale romana, la via Tiburtina. La strada era l'antica via di collegamento con la città latina di Tibur, Tivoli, da cui deriva il suo nome, e fu prolungata intorno al 286 a.C. dal console Marco Valerio Massimo fino ai territori degli Equi per raggiungere in seguito l'Adriatico. La strada partiva dalla porta Tiburtina, nei pressi dell'attuale verano. Uscendo da Roma, la strada affiancheggiava la basilica di San Lorenzo fuori le mura, una delle quattro patriarcali di Roma, eretta da Costantino nel 330, sul luogo di un saccello sorto sulla tomba del martire Lorenzo. Massicciamente restaurata dopo i bombardamenti dell'ultima guerra, è formata da due chiese contigue ma di orientamento opposto. Il campanile e il chiostro sono invece del secolo XII. Presso il Quinto Miglio la strada superava la Niene con il ponte Mammolo, a due arcate, che, danneggiato più volte, fu fortificato nel Medioevo fino alla costruzione, più a valle, di un nuovo ponte sotto Pio IX. Poco distante dal ponte scopriamo il casale della Cervelletta, un complesso edilizio dei secoli XIII-XVII costituito da una torre medievale, cui si aggiunsero successivamente edifici di tipo residenziale e agricolo. L'aspetto attuale è dovuto soprattutto ai borghese, proprietari della tenuta dal 1629. A Sette Camini scopriamo un'interessante area archeologica dove sono state rimesse alla luce diverse centinaia di metri dell'antica strada romana, oltre ai resti di una stazione di posta. Interessanti le antiche pietre miliari, come questa, che indica chiaramente il numero 9, cioè il nono miglio. Qui l'astricato è fiancheggiato da alcuni sepolcri di età tardo-repubblicana e da una taberna dedicata a Ercole, di cui si conserva il piano inferiore, costituito da numerosi vani, uno dei quali con pavimento a mosaico. Poco dopo, intorno al chilometro 17, si scorgono i resti della basilica di Santa Sinforosa, purtroppo molto degradata, che fu eretta da San Simplicio sul luogo dove fu sepulta la Santa, martirizzata sotto Adriano con i sette figli. Quindi la strada saliva a Tivoli e, dopo aver oltrepassato le acque albule, superava la Niene di nuovo col ponte Lucano, che prende nome da Lucano Plauzio Urguliano, ricordato nell'epigrafe posta sul recinto del grandioso mausoleo circolare che campeggia dopo il ponte. Da qui la strada saliva a Tivoli, lungo la via degli orti, l'antico Clivus Tiburtinus. La città, situata su un terrazzo calcareo dei monti tiburtini, domina strategicamente la campagna romana. Fondata da Catillo, navarca di Evandro o, secondo altri, dall'eroe Tiburto, entrò nel IV secolo nell'orbita romana. L'antica città era parzialmente avvolta da una cinta muraria e già nel II secolo a.C. fu oggetto di un notevole incremento urbanistico. Nel Medioevo la cittadina fu contesa fra gli Orsini e i Colonna, ma riuscì a mantenere la costituzione comunale fino alla fine del Quattrocento, quando divenne città pontificia. Della città medievale spiccano il Duomo di San Lorenzo, sorto sul luogo dell'antico foro, le cui origini risalgono al V secolo e accanto al quale spicca uno slanciato campanile romanico. Splendida è poi la Roccapia, una fortezza quadrilatera fatta innalzare da Pio II a partire dal 1458. L'ultimo importante intervento voluto da Gregorio XVI nel 1835 è la deviazione della Niene, a rimedio delle continue inondazioni, con lo scavo di due lunghi cunicoli attraverso il Monte Catillo. Nell'area dell'antica Acropoli, infine, visitiamo il Tempio di Vesta, un delizioso tempietto circolare del II secolo a.C., di cui sono ancora intatte 10 delle originali 18 colonne corinzie. Accanto è il coevo Tempio di Tiburno, il fondatore di Tiburi, noto anche come Tempio della Sibilla. Riprendiamo il nostro itinerario lungo l'antica via Tiburtina per raggiungere Castel Madama, un antico oppidum dipendente da Tivoli e a lungo conteso fra i Benedettini di Subiaco e gli Orsini. Nel 1538 passerà ai Farnese, come dote per il marito Ottavio di Margherita d'Austria, la quale, incantata dalla bellezza dei luoghi, migliorò il paese e le condizioni di vita, facendo costruire delle mura e un nuovo borgo. Il luogo conserva interessanti luoghi di interesse, come la parrocchiale di San Michele Arcangelo, eretta nel 1775 sul luogo di una precedente chiesetta. Molto ben conservato è poi il Castello degli Orsini, un'antica e signorile dimora fatta erigere dagli Orsini nel XIV secolo e in seguito passato a Margherita d'Austria, figlia di Carlo V. Al centro del castello troviamo un delizioso chiostro a due piani, ammirevole per ritmo e proporzioni. All'interno entriamo nella sala del consiglio, signorilmente arredata, come d'altronde tutte le stanze del palazzo, ricche di mobili, quadri e arredi antichi. Un bagno perfettamente ristrutturato dà poi un'idea della ricchezza e dell'organizzazione della vita del tempo. Spostiamoci ora a Roviano, un ennesimo, delizioso borgo medievale sviluppatosi per fasce concentriche intorno ad uno splendido castello. Il paese fu antico possesso dell'abbazia di Subiaco. Fu quindi rilevato dai Colonna e nel 1625 acquistato dai Colonna Barberini Sciarra. Il castello è il risultato di una sovrapposizione di interventi dovuti ai tanti padroni ed è stato da poco restaurato. Al suo interno sarà allestito il Museo della Civiltà Contadina dell'Alta Valle della Niene, attualmente ospitato nell'ex frantoio baronale Montano, che conserva interessanti documentazioni sui costumi e le tradizioni popolari dell'Alta Valle della Niene, con sezioni dedicate ai mestieri, al ciclo della lavorazione della canapa, del grano e della vite. E infine eccoci ad Arsoli, un altro splendido borgo affacciato sulla Valle del Bagnatore. Il luogo, situato in una bellissima posizione, appartenne agli Equi e poi ai Romani, che vi realizzarono le opere dell'Acquedotto Marcio. La cittadina risale al finire del X secolo e nella sua lunga storia ha visto passare per le sue suggestive strade personaggi illustri, da Garibaldi a Mussolini, fino a Luigi Pirandello, che fu tanto affascinato dalla sua deliziosa struttura urbana, da definirla una piccola Parigi. Tutto il paese è dominato da un immenso castello, costruito alla fine del X secolo e ampliato nel 1500, con il concorso del Vignola e di Giacomo della Porta. Non possiamo terminare la nostra passeggiata nella storia lungo la Tiburtina senza visitare uno dei più straordinari complessi monumentali della Romanità giunti fino a noi, Villa Adriana, nei pressi di Tivoli. Fu fatta costruire nel II secolo d.C. dall'imperatore Adriano, che vi trasfuse tutta la sua fine cultura tardo-ellenistica, includendovi teatri e biblioteche e rievocando luoghi che aveva visto nei suoi innumerevoli viaggi nelle province orientali dell'impero. Ci vollero vent'anni per completarla, ma il risultato è di una bellezza e una spettacolarità che non hanno certo pari nel mondo. Le grandi terme sono dei tre grandi complessi termali della villa, quelle che meglio rappresentano il concetto di terme romano. Luogo di riposo per il corpo e la mente, ma anche luogo di ritrovo e comunicazione, lontano dalle angosce della vita quotidiana che anche in epoca romana doveva produrre i suoi danni psicologici. L'angolo visivamente più noto è il Canopo, un'altra splendida vasca costruita per richiamare alla mente il canale che da Alessandria portava a Canopo, una località sul delta del Nilo, famosa per il culto di Serapide. Tutta la grande piscina era circondata da un meraviglioso portico colonnato adorno di infinite statue, sul fondo un'immensa abside che accoglieva un triclinio estivo. Il tutto era circondato da fontane e cascatelle in un insieme di straordinaria ricchezza ed eleganza. Il teatro marittimo è infine un suggestivo e inconsueto luogo costituito da una piccola isola circondata da un canale, a sua volta avvolto da un colonnato ionico. Sull'isolotto era costruita una piccola domus che poteva essere completamente isolata dall'esterno grazie ad un solo ponte mobile di accesso e che è considerato uno studio molto privato e riservato dell'imperatore che notoriamente possedeva un carattere molto ombroso. E ancora decine di luoghi suggestivi e testimoni di una storia e un'arte immense. Il nostro viaggio alla riscoperta delle origini e della grandezza della Roma antica termina qui, sulla visione della dolce campagna romana e della metropoli che sembra inghiottirla sempre più. I secoli dell'antica gloria sono lentamente trascorsi e oggi la città moderna cresce a dismisura, circondata da una provincia importante e dinamica in cui il progresso e il precipitare del tempo non sono riusciti a cancellare le tracce di uno splendore grandissimo. Splendore che riempie ogni angolo di questa bellissima terra, la cui visita continua a rammentarci che ad essa dobbiamo le origini della nostra civiltà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.